Partiamo da un presente che non è un gran caso la mobilità, ma guardiamo a un futuro davvero di respiro internazionale. Con gli accordi sottoscritti fra il Comune di Napoli e numerosi altri partner, viene lanciato anche a Napoli il progetto MAAS, Mobility as a Service, la mobilità come servizio, con la sperimentazione di progetti pilota per una nuova mobilità nell'area urbana e metropolitana. I cittadini napoletani, italiani, internazionali attraverso un'unica piattaforma accederanno a moltissimi servizi di mobilità su gomma, su ferro, ai tassi, ma anche agli scafi, ma anche in formazioni museali. Naturalmente deve andare in parallelo con una mobilità davvero funzionante, perché poi avere questi gioielli e non avere una mobilità non funzionante, però questo sta andando tutto in parallelo, quindi si potrà passare dalla mobilità tradizionale e scadente a un servizio integrato che integra anche la cosiddetta mobilità dolce o mobilità attiva, il cash sharing, i monopattini, le biciclette. Unico Campania è Mass Integrator, cioè è l'entità che garantirà al Comune di Napoli e agli utenti della città di Napoli e della città metropolitana l'integrazione tra tutti gli operatori della mobilità, sia del trasporto pubblico locale, sia delle forme di sharing e di mobilità dolce coinvolte nel progetto. Fra i progetti finanziati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica, quei fondi del PNRR, la città di Napoli è risultata prima in graduatoria grazie al progetto Mass for Naples. È difficile pensare che possiamo tutti quanti muoverci in automobile e trasportare 80 kg di essere umano con due tonnellate di automobile, non è troppo efficiente. È possibile organizzare, anzi farsi organizzare un viaggio per andare da un punto A a un punto B, qualsiasi sul territorio nazionale, senza doversi preoccupare del come. Ci sarà qualcuno che sceglierà per noi il miglior modo per farlo. Il progetto Mass for Naples ha fra i suoi obiettivi il miglioramento delle condizioni di viaggio degli utenti, con l'integrazione dei sistemi di trasporto e delle informazioni, il sostegno alle fasce deboli e agli utenti disabili, l'incremento della sostenibilità ambientale. Noi copriamo proprio quei tratti dove il sistema di trasporto pubblico ancora evidentemente non arriva o comunque non può arrivare dappertutto. L'integrazione sta proprio in questo. L'obiettivo è quello di integrare tutti i protagonisti di questo settore. Abbiamo messo assieme nella firma soggetti molto etereogenei fra di loro, ma proprio perché il progetto va dall'università fino agli operatori specifici sul territorio, passando per il consorzo unico. Quindi lo scopo è 2026, ma noi cercheremo di abbreviare i tempi.